In circa cinque mesi di residenza qui a Berlino ho lavorato alla mia ultima serie e l'ho fatto utilizzando gli spazi della galleria come studio. Nel mio lavoro c'è sempre una volontà di connettermi con il mondo e con il nostro tempo. Rifletto spesso sul mezzo e sull'immaginario di ogni opera, ma mi rendo conto che alla fine fondamentalmente tutto quello che mi porta ad avere gli spunti per realizzare le opere sono dei pretesti, è come se ci fosse un desiderio costante in me che mi fa interrogare sul ruolo che un dipinto dovrebbe svolgere oggi. Tutti i lavori presentati in mostra sono strutturati partendo da alcune riflessioni esistenziali del romanticismo. La ripensione puntitiva, a mio avviso, ci permette di alimentare il nostro potere immaginativo e questo in qualche modo è quello che in questi mesi di lavoro mi ha guidato. Ho cercato di dare unità corale alle opere strutturando la mostra e ho immaginato che entrando in mostra uno spettatore potesse trovarsi subito immerso in una dimensione ben precisa e che nelle opere potesse essere evidente una loro corrispondenza, come se l'una forse è la fine o l'inizio dell'altra, esattamente come accade con il giorno e la notte o viceversa. Ho realizzato una nuova serie di dipinti che fanno da perno centrale alla mostra e sono dei dipinti ad olio che poi rendono come riferimento alcuni particolari di cieli dipinti del romanticismo tedesco. Naturalmente in me non c'è mai stata una volontà che questi fossero delle copie fedeli di altre opere d'arte e nemmeno delle rappresentazioni di qualche fenomeno naturale come un album tramonto. Li ho sempre immaginati più come dei paesaggi psicologici. In questa serie di dipinti la pittura d'olio è applicata strato dopo strato sulla tela, trascinando il colore al di fuori del suo perimetro, come se l'immagine volesse fuoriuscire dal spazio mesofisico del quadro ed entrare prepotentemente nella vita. Questi sfrangiamenti che ne derivano rendono e danno una componente fortemente oggettuale alle opere, ma ne rilevelano anche una certa fragilità, facendogli sembrare quasi degli strappi o dei ritagli che in qualche modo sono stati prelevati da qualcosa di persistente. È molto strano da dire, ma riguardandoli oggi trovo una strana e curiosa connessione con la mia vita.